Cospiroleca, gli applausi sono tutti per la tua squadra, Paccher è riuscito fra gli applausi dei tifosi di Napoli, siete andati ad un tiro dal compagno. Era marico e tanto perché abbiamo fatto una grandissima partita, la dimostrazione che questi ragazzi sono speciali, abbiamo fatto una roba incredibile con una squadra come Napoli che gioca a mezzo un metro sopra il ferro, li abbiamo tenuti, messi in difficoltà. C'è da recriminare quel antisportivo non fischiato sul meno due, clamoroso, non visto però peccato. Alla fine dell'episodio la differenza è stata, a me io ho messo la bomba e noi l'abbiamo sbagliata. Però onore ai miei ragazzi perché hanno fatto una partita di grande cuore, di intensità mai vista contro un avversario da paura e prende ancora più valore. Applauso ai nostri, peccato perché se era il colpaccio qui era clamoroso e ci dispiace solo per il risultato, però abbiamo fatto qualcosa di importantissimo. Adesso vediamo perché Vencato ha smesso di giocare, gli facciamo alle piede e raccogliere i coach per il venerdì. Però questa partita qua entra nella storia perché tenere Napoli a quelle percentuali, a mettere in difficoltà su tutti i punti di vista, e siamo orgogliosi di questo. Peccato che hanno tirato 36 tiri liberi e noi 25. Insomma, un po' di... però la fisicità di loro è stata importante e noi non abbiamo mai fatto un passo indietro, anzi con un po' di più di fortuna andavamo qui con la vittoria in mano. Grazie a tutti.